Elezioni regionali 2014 Si vota per eleggere il Presidente e per il rinnovo del Consiglio regionale del Piemonte domenica 25 maggio, dalle ore 7 alle ore 23, in contemporanea con le europee e le amministrative locali. L'elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità valido e con la tessera elettorale. Chi non ha la tessera elettorale o la smarrita può richiederla all'ufficio elettorale del Comune di Residenza. L'elettore può votare il candidato a Presidente tracciando un segno sul nome del candidato a Presidente. L'elettore, contrassegnando il simbolo di una delle liste poste alla sinistra di un candidato a Presidente, esprime un voto valido sia per la lista prescelta sia per il relativo candidato a Presidente. In entrambi i casi, si può esprimere un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere compreso nella lista prescelta, scrivendone nell'apposita riga il cognome oppure nome-cognome in caso di omonimia. L'elettore può anche esprimere voto disgiunto contrassegnando il simbolo di una delle liste e il nome del candidato a Presidente non collegato alla lista prescelta. Elezioni regionali 2014 Si vota domenica 25 maggio dalle ore 7 alle ore 23 Informativa a cura del Consiglio regionale del Piemonte